Ecco le mie quaglie, vivono una voliera abbastanza aperta, si nascondono dietro dei mattoni, le loro mangiatoie, beveratoie, sono un animale che amano tanto nascondersi, molto selvaggio e fanno le uova per terra, vediamo intanto c'è deposto un uovo nascosto dietro dei nascondili. Di solito la femmina ha un colore più omogeneo, mentre il maschio ha le guanciotte marrone e il petto marrone per questa qualità qui. Il maschio, per notare la colorazione più marrone. In queste qua colorazione bianca purtroppo non è facile, bisogna guardare sotto nei genitali. Grazie. 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 Grazie.